Bella a tutti, belli e brutti, io sono Merto Palumbo e siamo qui per fare il video della top 10 dei migliori difensori centrali della Serie A del Giro d'Andata 2019-2020. Bene, spero che questo video vi piaccia, ci ho lavorato tanto, come sapete, questa è una top, è probabilmente la serie che preferisco di più sul canale. Quindi vi invito a lasciare il mi piace e commentare con la vostra classifica nei commenti. Bene, iniziamo subitissimo, partiamo con la numero 10 e direi di iniziare da Milenkovic, numero 10, ce l'ho affanta, quindi lo conosco, lo conosco, lo dico, lo conosco, Milenkovic e devo dire che è parecchio, è molto 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 forte, ma ci sono dei lì, cioè prende sempre la sufficienza ed è questo perché è uno dei pochi che si salva di questa Fiorentina che decade giorno per giorno, ma è un difensore molto molto serio, molto forte, fisicamente un mostro e recupera molti palloni. Sinceramente, nella difesa del Napoli, scusate, della Fiorentina, spicca veramente tantissimo, sia per qualità sia per quantità di muscoli e di forza fisica. Decimo posto che merita tantissimo, merita tantissimo, veramente. Non ci sono altre parole per descrivere questo. Non ho posto per Rachmani dell'Elas Verona. Non ho posto per Rachmani. Allora, Rachmani a me piace, cioè devo dirlo sinceramente, a me piace, però sinceramente è tutto l'Elas Verona che sta giocando benissimo e l'Elas Verona che sta facendo bene l'Elas Verona da Europa. Non per questo ha una coppia di centrali come Rachmani con Bulla, inoltre anche Gunter che è un buonissimo centrale, quindi ha una buonissima difesa. Ma soprattutto, non è lì la forza dell'Elas Verona, ma è nella totalità della squadra e come gioca. Ma Rachmani comunque si fa sempre a trovare pronto, è sempre un difensore capace e si fa scappare ogni tanto quell'intervento decisivo. Quindi Rachmani non ho posto. Ottavo posto per Alessio Romagnoli del Milan. Uno dei luoghi che si salva e che cerca di non far raffondare il Milan nel buio teatro della sede B. Ma Romagnoli comunque, con la sua cattiveria, con la sua voglia di fare, sinceramente, da capitano deve essere messo in questa classifica perché si fa sempre la sufficienza, non si fa mai scappare l'uomo, è un difensore che fa sempre il suo. Ecco perché ogni tanto vedete che nel fattacalcio prende qualche voto brutto, ma non è colpa sua, ma è colpa di quel musacchio di merda. Che è sinceramente uno dei peggiori difensori centrali che abbiamo in Serie A e che è stato sostituito da uno che si chiama Simon Kier. Quindi è un tutto dire, ma per far capire la situazione del Milan. Romagnoli. Alessio. So che tu sei tifoso della Lazio, quindi... Ma lasciamo per... Il capitano del Milan deve continuare nella sua strada e deve portare il Milan in Champions League. Gli auguro tutto il meglio, ma sicuramente prima o poi ci riuscirà a giocare veramente una partita in Champions perché se lo merita, perché è un grandissimo centrale. Settimo posto per Mancini della Roma. Sono contentissimo per quello che è successo con Mancini e soprattutto per la coppia di difensori centrali. Tra i due è sicuramente quello meno esperto ed è sicuramente quello che si fa scappare più errori. Ma ci stanno, cioè è ancora giovane e ancora tanto tempo per crescere. E un settimo posto ci sta assolutamente. La cosa che mi piace di più di Mancini è come gestisce la palla. Ha i piedi perfetti per farlo. Ha tanta visione di gioco per essere un centrale. Per questo è stato anche adattato mediano e ha fatto molto bene. E' un difensore centrale che deve ancora crescere, ma che può farlo a Roma e che può farlo molto bene perché in questo periodo si sta facendo valere molto. Quindi io, dagli Mancini, io sono contento fino a quando non ti andrai. Bene, sesto posto per Delict. Allora, tutti mi daranno del pazzo. Ma come? Delict, la mano, pallavolista, quello che vi pare. Delict. Per me il primo approccio alla Serie A non è stato dei migliori. A Pampiano si è preso la titolarità, la forza, anche per l'assenza di Chiellini. Ma sicuramente con un buon uccidietro, ma soprattutto con un Demiral che l'ultima volta che è stato schierato ha fatto un partitone assurdo. Con un Rugani che vuole tornare alla ribalta. Sicuramente trovare la titolarità definitiva era difficile. Con cinque centrali di questo calibro. E con cinque centrali che potrebbero fare i titolari dovunque, in tutte le altre squadre della Serie A. Forse solo Napoli e Inter che hanno delle difese che sulla carta sono più forti. Ma Napoli non c'è, manco un centrale qui per farvi capire. Ma anche per la situazione del Napoli. Comunque, Delict mi è piaciuto tantissimo per come si è ripreso. Per l'approccio al campionato. Perché è un difensore che fa sempre l'anticipo, molto veloce, molto tecnico. Sono delle qualità che sono sempre state viste sia all'Ajax che alla Juve adesso. Quindi, molti mi daranno del pazzo, ma io gli voglio concedere il stesso posto. E, sinceramente, è un difensore che invidio a tutte le squadre che inviderei di qualsiasi squadra fossi. Perché è un difensore completo. È un difensore molto, molto giovane. Che quindi può crescere tanto. Che è stato anche responsabilizzato parecchie volte. Quindi, Delict si merita la sesta posizione. Passiamo alla quinta posizione. E qui troviamo Skriniar. Che, pian piano, mi stupisce sempre di più. Skriniar. Allora, io pure ero molto scettico quando arrivò. Ma ormai si sa che Skriniar è un grande centrale. Ma perché continuo? Infatti, sono proprio stupido. Continuo sempre ad andare sullo stesso discorso. Comunque, grandissimo centrale. Fa sempre la sua stagione. Purtroppo, questa volta, quest'anno, complici l'esplosione definitiva di De Vrij. E anche l'arrivo di Godin. Cioè, l'errore nella difesa lì, l'Inter lo fa praticamente sempre lui. O Godin. Perché Godin, anche lui, deve approcciarsi. Ma anche perché non ne ha giocate tutti. Ha giocato molto spesso Bastoni. Che comunque, le ha fatte le sue buone partite. Ma ha giocato troppo poco per essere messo nel top. Bastoni, che comunque io difenderò sempre. Perché io lo volevo all'Inter. Tutti diremo a questo lo dobbiamo vendere. Perché tanto non giocherà mai. Ci avete tre centrali. Fatevi un esame di coscienza. Ranocchia può giocare o no? D'Ambrosio, come difensore. Può essere utile o no? Se ce ne sono due. Chi mettiamo come terzo? Panchinaro. Comunque, il Panchinaro. Bastoni, che è molto meglio di Nanocchia e di D'Ambrosio. Almeno come difensore centrale. Comunque, Skriniar. Sempre valido. Ogni tanto quell'errorino ce l'ha. E si è fatto vedere spesso. Comunque. La quinta posizione è più che degna. Credo si riprenda molto meglio nel secondo giro. Ma comunque, passiamo al quarto posto. E qui ho messo Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci, che è finalmente tornato. Il Bonucci che conoscevamo qualche stagione fa, prima del passaggio al Milan. Un difensore centrale capace di gestire la partita in una maniera incredibile da dietro. Con tanti lanci, tanti inserimenti. Anche palla a piedi da difensore centrale. E un difensore molto offensivo, come tutti conosciamo. Ed è finalmente tornato. Si è preso la sua titolarità anche per le infotture di Chiellini. Quindi è diventato il difensore della Serie A che tutti conoscono. Tutti conoscono il primo difensore che gli vengono in mente. A parte quelli dell'Inter. Che comunque forse potrebbero. Ma, come dire, Bonucci. Bonucci. Che è stato un pazzesco su tutti i punti di vista questa stagione. Per questa mezza stagione. Quindi spero che continui così anche dopo il ritorno di Chiellini. Quindi, comunque, passiamo al... Perché comunque è un futuro nazionale. Anche se già ha la sua esperienza. Passiamo al terzo posto e qui a Cerbi. A Cerbi della Lazio. Non è per caso che la Lazio sia terza con un distacco pazzesco rispetto alla Roma di 7 punti più una partita in meno. Quindi un possibile distacco di 10 punti dalla terza e un avvicinamento incredibile a Juve e Milan. Cioè, Ju... Scusate. Juve e Inter. Quindi... De Vrij è anche l'unica certezza della difesa. Perché la difesa della Lazio comunque traballa spesso. Ma quest'anno molto di meno. Pazzesca mete. Luiz Felipe. Luiz Felipe mi piace. È un gol centrale e ci sta. Ma Cerbi. 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 Scusate, ma sempre più cazzuto. Cattivo. Forte. Di fisico. Di test. Cioè. È un difensore tutto. Fare. Che veramente quest'anno esploso. Ha trovato la sua quadra definitiva. Poi è anche uno dei leader della Lazio. Quindi se no lo metto nella top 3 questa classifica. Quest'anno che la Lazio è veramente vicina al tricolore. Non lo dico. Lo dico gufando. Ma comunque. Passiamo. Al secondo posto. De Vrij. De Vrij. L'esplosione definitiva di De Vrij. Con la maglia dell'Inter è stata pazzesca. E lo abbiamo notato tutti. Perché è stato veramente il leader della difesa dell'Inter. Il leader. Perché bravissimo di te. Vabbò lo sappiamo. Basta elencare le qualità degli giocatori che giocano da 50 anni in Serie A. De Vrij. Quest'anno è veramente diventato il leader della difesa. Anche perché è stato facilitato dal modulo. Perché a giocare a 4 non è il suo forte sinceramente. Ma nella difesa a 3 dove giocava anche alla Lazio. Dove era il leader della difesa della Lazio. Da centrale. Centrale della difesa. È diventato il leader definitivo della difesa dell'Inter. Una difesa veramente pazzesca. Con Skriniar e Godin. Veramente forma la difesa più forte della Serie A. Quindi De Vrij. De Vrij niente male. Cioè io lo considero veramente un grandissimo difensore. Anche se ha giocato nel Lazio. Anche se lo ha avuto al fantacalcio. Ma questa è una cosa tra noi. De Vrij. Deve assolutamente prendersi il suo spazio. È stato molto sottovalutato anche dai tifosi dell'Inter. Ma De Vrij e De Vrij. Cioè De Vrij e De Vrij. E deve essere considerato il miglior difensore che avete in rosa. In rosa. Passiamo alla prima posizione. E qui ho voluto premiare un giocatore della Roma. Chris Smulling. Chris Smulling. Tutti a dire questo non si ambienterà nel campionato. Questa è una pippa. Questo quello, quello, quell'altro. Allora non per caso era il capitano dell'Inghilterra. E nello stesso tempo. Comunque semi capitano. Comunque c'era Anderson. Era il capitano dell'Inghilterra. Ma soprattutto era il capitano del Manchester United. E non sono due cazzate. Sono due cose che importano. Per un difensore inglese, tra l'altro. Che ci tiene a queste cose. Un difensore che è cresciuto nell'United. Che ha avuto le palle di dire. Cazzo questa squadra è una merda. Me ne vado. Me ne vado. E si è ambientato in un campionato completamente diverso. Come la Serie A. E diventato il difensore centrale. Più forte di tutti. Stare di parte fisicamente. Velocissimo. Recuperi a non finire. Cioè praticamente. Ha tenuto a batta Lukaku. E Ronaldo. Per me. Ha il tuo rispetto. Ha il mio rispetto totale. Nella stessa Serie A. Nella stessa Serie A. Quindi Ronaldo. Cioè quindi. Smalling è il difensore più forte della Serie A. Di questo girone d'andata. Bene. Questo video finisce qui. Mi raccomando. Lasciate il like. Iscrivetevi al canale. E commentate qui sotto. Con la vostra classifica. Nei commenti. E inoltre. Vi invito a seguirmi su Instagram. AirTattinoBusMotoCiclista. Bella.